Sentiamo anche cosa ne pensano i ristoratori, parliamo con Francesco del ristorante Alamo, si parla tanto di Boga Marissi, Boga Marino nelle tavole algheresi, qual è la vostra posizione? Allora la nostra posizione è che noi siamo d'accordo al riccio nelle tavole di Alghero in quanto un prodotto tipico, un prodotto identitario della nostra cucina, ma nei limiti in cui sia sostenibile la pesca del prodotto. Crediamo che sia opportuno utilizzarlo in un periodo limitato rispetto a quello che prevede la norma. Tanti avete già sottolineato, c'è un problema abusivismo? Assolutamente, io credo che sia il problema fondamentale della risorsa ed è una cosa su cui tra l'altro come ristoranti possiamo intervenire direttamente, in modo anche incisivo. Credo che sia indispensabile che tutti i ristoranti o le attività che utilizzano il prodotto si premoniscano di utilizzare solo un prodotto certificato, pescato da chi fa le cose secondo le regole, secondo la salvaguardia.